Carloni, un parere da consigliere regionale ma anche da giurista, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che c'è una forma di bullismo da parte del governo Conte verso la regione Marche e in questa lotta intestina all'interno della sinistra e del PD non si tiene conto dei marchigiani e abbiamo assistito ad una cosa che non sappiamo più neanche come definire, è indecente dal punto di vista politico perché hanno impugnato al Tribunale Amministrativo l'ordinanza numero 1 del 25 febbraio oggi il Tar si è pronunciato sulla sospensiva mentre entrerà nel merito il 4 ma se devo rispondere tecnicamente potrebbe succedere questo che la Giunta regionale e il Presidente possa valutare e credo che lo stia facendo insieme agli Avvocati di riemanare una nuova ordinanza reiterando quell'ordine e quindi in qualche modo sospendendo gli effetti della sospensiva però di fronte a tutto questo che sembra veramente una partita a scacchi per Avvocati e per politici riottosi alla logica e all'intelligenza ci sono di mezzo i cittadini, c'è uno stato di confusione incredibile la gente non sa come fare, non sa come organizzarsi abbiamo comunque creato degli effetti per prevenire una diffusione che in qualche modo danno la possibilità alla gente di non essere costretta ad andare nei momenti affollati, negli eventi, nei pubblici spettacoli, nelle scuole, nelle università ma tutto questo non può avere questa isteria un giorno si apre, un giorno si chiude, ieri eravamo aperti, domani non si sa cioè questa è una cosa assurda poi ci ha detto però lo Stato c'è e si fa rispettare ma lo Stato c'è, mi scusi delle altre ordinanze, della Liguria, dell'Emilia Romagna, degli altri casi non c'è stata nessuna impugnativa c'è stata un'impugnativa solo per le marche io sono stato tra quelli che ha chiesto subito a Ceriscioli di farla e riconosco in lui almeno il coraggio di averlo fatto lo dico sinceramente senza amore per la polemica ma l'atteggiamento che il governo ha verso le marche è un comportamento esclusivo perché verso le altre regioni non ha fatto l'impugnativa nelle marche c'è una reale emergenza coronavirus? io non lo so perché non sono un medico mi dicono i nostri esperti e i tecnici della regione che abbiamo in questo momento tre persone positive al coronavirus e 60 persone in isolamento quindi evidentemente rispetto a lunedì e certamente rispetto a martedì il quadro del fenomeno è cambiato ma è possibile che la politica di fronte a questo non perda l'occasione di fare un gesto così irresponsabile gettando questa regione un milione e mezzo di cittadini lasciandoli allo sbando tra una lotta di bullismo del governo Conte nei confronti di un governo dello stesso colore politico che però evidentemente appunto per una sorta di riottosità e me lo lasci dire anche di guerra tra correnti del Partito Democratico si giochi sulla pelle dei cittadini grazie a tutti